Come ti chiami? Chiara. È la prima volta che vieni alla Scala Milano? Sì, è la prima volta. Che cosa provi? Che emozioni si prova a venire la prima volta alla Scala? Beh, è una forte emozione appena entri all'ingresso, vedi tutte le luci, tutti i lampadari, sono veramente contenta di essere venuta. La fila notturna ne valsa la pena. Hai fatto la fila di notte? Sì, ho fatto la fila di notte, dalle 4 di notte fino alla mattina per prendere i biglietti. Quanti anni hai? 28, quindi sono anche gli ultimi anni. Quindi ne valsa la pena? Sì, ne valsa la pena assolutamente, tornerò anche l'anno prossimo. Senti, cosa sai di questa opera di Giordano tu? Poco, perché non sono un'appassionata, ma spero di appassionarmi.